Buonasera a chi ci ascolta, qui su Radio Radicale l'appuntamento è con il bandolo, la trasmissione che sulla nostra emittente portiamo avanti con la Fondazione CERM e il Centro Enaudi, chi vi parla? Valeria Manieri. Ci sono in collegamento diversi ospiti, due in particolare li conoscete bene, Fabio Pammolli, economista, chair del Comitato Investimenti InvestEU, direttore del Comitato Scientifico della Fondazione CERM. Buonasera Pammolli. Buonasera. E buonasera anche a Giorgio Alfaras, economista, Fondazione CERM e Centro Enaudi. Bentornato. Buonasera. È un piacere avere con noi la prima volta che partecipa al consesso del bandolo, ma non la prima volta su Radio Radicale, è Alisa Yucca, esperta di Asia, in questione a Hong Kong, editorialista e business editor per la Reuters Breaking News. Bentrovata. Buonasera. Buonasera a tutti. E buonasera anche a Oscar Giannino, che è una graditissima conferma qui con le amiche e gli amici del bandolo, giornalista, esperto di politica e di economia. Bentornato. Grazie a voi e un saluto a chi ci ascolta. Proviamo a fare un giro questa volta in questo mondo complicato. Abbiamo provato a farlo anche la scorsa settimana. Parliamo degli effetti delle guerre e del terrore anche in Europa, quello che si sta muovendo intorno agli ultimi sviluppi dopo l'attacco di Hamas ai danni di Israele, le visite delle prossime ore ovviamente di Biden in Israele, l'invite a una reazione ferma da parte di Israele, ma anche in qualche modo ragionata, gli effetti a catena in tutto il mondo arabo e anche partite più grandi, che ovviamente si spostano fino a Kiev, all'Ucraina e alle capitali, Mosca, Teheran e Pechino. Abbiamo fatto riferimento a tutto questo anche la scorsa settimana, proviamo ancora a sviluppare di più questo tema, anche perché le guerre oltre alla paura e a volte anche allo sgomento portano con sé anche tutta una serie di altre variabili, tra cui anche politiche e ovviamente anche economiche. Io chiederei, ovviamente subito mi faccio aiutare dai due giornalisti presenti, a Oscar Giannino un suo commento su quello che sta succedendo e come l'Europa guarda questi avvenimenti, perché si parla molto spesso di un'Italia, ma anche molto spesso di un'Europa in qualche misura debole, perché ha delle armi spuntate, ha ancora una visione politica estera molto frammentaria e anche un momento dell'economia piuttosto debole, con già un fronte orientale a est piuttosto teso e piuttosto impegnativo come quello ucraino. Che dire? Ma diciamo che l'Europa è debole, ma la colpa è sua, nel senso che sto parlando di quello che avviene in questo momento, ovviamente Israele e Strescia del Gazz. Se andiamo a ritroso, la più recente proposta con punti articolati per una soluzione del problema israele-palestinesi da parte dell'Unione Europea risale a 43 anni fa, è la dichiarazione di Venezia nel 1980, quando l'Unione Europea era composta da nove paesi membri. E da allora l'Unione Europea ha fatto la scelta di delegare, guardare, insomma non se ne è occupata. Questo è il problema fondamentale, se guardiamo dal punto di vista politico-diplomatico. Mentre è in corso questa maratona da giorni a giorni tra Israele, Giordania, Bahrain, Emirati Arabi, Arabia Saudita, Egitto, del segretario di Stato americano. E mentre sul tavolo si accumulano le verità di proporsi come mediatori ovviamente di Erdogan che ha un suo disegno ben preciso che porta avanti da anni come potenza medio-regionale ad elevate ambizioni da una parte e dall'altra Putin, Cina, Iran, eccetera, eccetera, l'Unione Europea in tutto questo non ha nessuna carta da giocare. Quindi la carta che ha, perché non ha proposte recenti, cioè costruite sull'evoluzione recente di quello che è avvenuto alla striscia di Gaza, in Cisgiordania e al confine sul libanese, cioè Sbolla, Hamas e Jihad Islamico. E non ha neanche apprezzabili, assunto mai in tutte queste decenni, apprezzabili iniziative economiche. Tranne gli aiuti umanitari, siamo riusciti a totalizzare una pessima figura internazionale anche su quella con due giorni di tumultuose autosmentite su questa presunta decisione iniziale di sospendere gli aiuti, non gli aiuti, ma gli aiuti non ci sono, sono quelli umanitari, non sono solo quelli umanitari. In definitiva, invece, ciascuno degli altri interlocutori, anche al di là delle azioni di sostegno politico, militare, terroristico, ovviamente sto parlando di Teheran, sto parlando del Qatar, sto parlando di queste cose qui, ma anche al di là di quello, se andiamo a vedere dal punto di vista economico, non è che la Turchia, per esempio, non abbia innestato la sua strategia nello scacchiere orientale del Mediterraneo con iniziative rilevanti. Lo ha fatto, ne sa qualcosa anche lei, negli anni in cui contestava radicalmente con propria presenza militare, laddove le concessioni erano state date anche a imprese per avviare le prospezioni e la messa a cultura dei campi di gas sottomarino a est di Cipro. Lo ha fatto però anche, aprendo un canale diretto economico e tecnologico con Israele, lo ha fatto traguardandolo con l'Egitto, pur essendo la posizione dell'Egitto in alcune parti di questo scacchiere rispetto alla Turchia molto diverse, pensiamo solo alla Libia, ai ruoli giocati nelle due parti della Libia da questi due paesi, eppure lo ha fatto la Turchia e a questo ha aggiunto poi le triongolazioni economiche che sostengono di fatto in maniera molto importante insieme a quelle indiane per l'aggiramento delle sanzioni economiche e finanziarie nei confronti della Russia, basta vedere le cifre di import ed export della Turchia, come sono verticalmente cresciute in questo anno e mezzo di invasione russa dell'Ucraina e così via. Noi non abbiamo niente di tutto questo, a dire la verità. Sull'Italia stendo un pietoso velo, cioè abbiamo balbettato da qualche mese a questa parte di un presunto Piano Mattei che non esiste, di fatto non esiste, non è un pregiudizio politico, il mio di fatto non esiste, cioè non si inquadra né in una strategia dell'Unione Europea che fronteggi per esempio i maxi investimenti in termini di miliardi di dollari che la Cina ha iniziato a annunciare scegliendo come partner governo come quelli dell'Algeria e quelli del Marocco, l'Unione Europea non ha niente di simile, inizia tra poco, oltretutto tra poche settimane, un G7 a presidenza italiana per tutto il 2024 nessun'Italia ha sentito una sola parola pronunziarsi su quali siano le priorità della presidenza rispetto a tutti gli altri presidenti del G7. Il G7 a propria volta è una crisi lunga, molti anni che gli ha visto, non ha su che ha visto, non assumere da parte del G7 iniziative rilevanti nei confronti del G20 da una parte che è uno schiacchiere su cui in realtà non giochiamo più un ruolo davanti come paesi, come democrazia avanzata e industrializzata, né tantomeno sull'altro fronte, quello dei BRICS che ha visto queste state invece iniziative internazionali molto forti perché è lo schiacchiere su cui l'India è più sul G20, ma la Cina sui BRICS ha una strategia che si innerva in decenni e decenni di politica economica, infrastrutturale, concessione di prestiti, acquisizione di strategici punti navali a proprio vantaggio e in cambio di materie prime. Come si vede per l'Unione Europea e l'Italia è un quadro di debolezza voluta perché a un certo punto ci torniamo su questo Oscar Giannino perché mi aggancio proprio a quello che diceva Oscar Giannino a proposito dei BRICS per andare a vedere anche l'altra parte del mondo che certo non sarà credo felice soprattutto se guardiamo un pochino di queste tensioni crescenti perché sappiamo che la Cina non ama molto le guerre poi a casa propria ha altre questioni a cui badare e tra l'altro Lisa Yuka è proprio collegata a Hong Kong come si guarda a questo scenario che appunto in Ucraina fino al Medio Oriente la questione israelo-palestinese non solo si accende ma in qualche modo si riaccende e esplode ma si arricchisce di nuove variabili e di una geometria politica diciamo molto variabile perché appunto oggi anche guardando solo al conflitto israelo-palestinese non è più solo quello è una partita probabilmente come altre molto più grandi di una l'abbiamo detto la scorsa settimana in fondo una sorta di terza guerra mondiale a bassa intensità che si sta già giocando su vari fronti non solo quelli diciamo in cui le guerre e i conflitti sono più evidenti ma anche su aspetti commerciali economici egemonici certo beh chiaramente nel senso chiaramente la Cina che come dici tu cerca sempre tranquillità guarda con appressione a questa apertura di un nuovo conflitto nell'area europea medio orientale tra l'altro come ha ricordato Oscar loro sono molto concentrati in questo da anni ormai in questo tentativo di stabilire rapporti economici molto stretti con tutta una serie di paesi anche non tradizionalmente allineati con il blocco occidentale proprio in un'ottica di garantirsi diciamo accesso a risorse ma anche fare investimenti infrastrutturali tra l'altro proprio in questi giorni cade l'anniversario il decimo anniversario della famosa iniziativa della Belt and Road Initiative nota anche come nuova via della seta c'è proprio un forum in questi giorni a Pichino e il presidente Putin è in visita proprio in questa occasione e a proposito della debolezza europea e italiana anche lì l'Italia e l'Europa non sanno bene come togliersi dall'infaccio no? sì assolutamente adesso se vuoi possiamo anche approfondire questo tema ma come sappiamo siamo diciamo l'Italia ha segnalato che vuole in qualche modo sfilarsi però insomma non è riuscita ancora a farlo formalmente sfilarsi da questo accordo unico paese del G7 insomma che ha segnato che ha figlato un memorandum su questa via della seta quello che volevo soltanto sottolineare è che allora fino alla guerra in Ucraina fino a poco prima della guerra in Ucraina insomma tradizionalmente la politica estera se vogliamo cinese è sempre stata quella del non interventismo addirittura indifferenza insomma una reciproca approccio a non mischiarsi se vogliamo dirlo imparare povere in questioni internazionali finché gli altri comunque non venissero a guardare troppo in casa cinese poco prima dello scoppio della guerra in Ucraina però la Cina ha dichiarato questa cosiddetta amicizia senza limiti nei confronti della Russia che se vogliamo è stato un passo diciamo di rottura con una sua tradizionale posizione di non allineamento ecco adesso nel senso questa questa nuova area di conflitto potenzialmente destabilizza ma destabilizza anche i suoi piani perché comunque la Cina già da tempo cerca legami anzi ha in parte dei legami a vari livelli tendenzialmente economici con paesi del Medio Oriente da qua a Hong Kong ma anche comunque in Cina si vedono tantissimo capitali anche medio orientali che stanno arrivando qua cinque anni fa non c'erano adesso insomma la cosa è molto è molto visibile quindi nel senso il timore che questa area diventi una polveriera che apre un nuovo fronte che renda un po' più complessa un po' probabilmente molto più complessa anche le sue mire commerciali crea assolutamente un grosso punto interrogativo sarà interessante vedere anche di chiaramente sarà difficile saperlo però insomma c'è un incontro di alto livello tra Putin e Xi Jinping proprio in occasione di questo forum come dicevamo della via della seta a Pechino che è iniziato oggi sarà interessante vedere anche se i due leader fanno una nuova dichiarazione che magari anche comprende riferimenti all'area medio orientale ecco però per citare Mao la confusione è grande ma la situazione è eccellente che vuol dire che a volte anche la confusione alla Cina potrebbe tornare comoda soprattutto perché diciamo ci sono anche esempi di democrazia che in questo momento fanno molta fatica rispetto a un modello che la Cina contrappone anche a livello politico egemonico e culturale ecco ci sono degli elementi che in questa confusione e in questi conflitti crescenti potrebbero invece avvantaggiare Pechino allora io posso fare l'esempio ancora del rapporto con la Russia in seguito lo scoppio della guerra in Ucraina per vedere come si è sviluppata la situazione soprattutto a livello commerciale perché poi appunto l'occhio di riguardo ai rapporti economici finanziari è sempre importantissimo per la Cina dopo lo scoppio della guerra in Ucraina questa cosiddetta amicizia senza limiti si è giocoforza rafforzata tra i due paesi ma quasi a senso unico cioè a vantaggio della Cina ovvero la Russia avendo perso la possibilità di vendere soprattutto materie prime soprattutto petrolio c'è stato il divieto al cosiddetto embargo scusatemi comunque abbiamo scelto anche di non comprare il gas insomma praticamente la Russia ha ridiretto molte delle sue materie prime verso la Cina la Cina la Cina esporta tantissimo verso la Russia perché appunto ci sono sempre sanzioni o comunque paesi che non vogliono avere paesi occidentali soprattutto a che fare con la Russia e insomma i rapporti commerciali sono aumentati in maniera enorme adesso siamo a 190 miliardi di scambi bilaterali quasi tutti a favore della Cina perché tra l'altro la Cina importa materie prime a prezzi stracciati perché comunque la Russia non avendo più i suoi come dire clienti occidentali insomma il prezzo del petrolio cosiddetto Uralz a sconto e quindi nel senso attratto vantaggio da una situazione di conflitto dal punto di vista commerciale ecco questo si può riproporre con la situazione emodio orientale è un po' diverso perché appunto nel caso della Russia c'era proprio anche questa complementarità se vogliamo cioè la Cina produce prodotti manifattura e la Russia esporta materie prime che interessano la Cina quindi c'era però sicuramente nel rapporto il ruolo diciamo principale o comunque il ruolo di paese diciamo che è più forte nel rapporto a due è sicuramente quello della Cina ripeto io vedo la Russia sempre più come un stato vassallo nei confronti di Pechino grazie grazie di Zayuca Giorgio Alfaras e poi Fabio Pammolli Giorgio Alfaras con il quale abbiamo iniziato la scorsa settimana questo ragionamento è uno dei reduci diciamo nella scorsa puntata beh lì sto studiando per scrivere una cosa di analisi economica comparata Israele Gaza Gaza è un'area economica di sviluppo e così via ma adesso sto studiando e sto zitto volevo dire un'altra cosa provocatoria ma non penso che lo dico per provocare ma perché lo penso cioè se voi prendete la Russia e la Cina questi hanno diciamo mediamente un reito pro capite che è un terzo di quello dell'Occidente quindi è un reito pro capite che è un terzo il caso cinese prima di Deng Xiaoping era un decimo nel resto è un terzo ed è un terzo che tanto come cresce considerando che c'è stata anche la crescita qui quindi è in percentuale una cosa diversa è quella russa perché il reito pro capite russo era molto più alto ed è simile a quello cinese attualmente ed era molto più alto in passato perché si era diciamo così sviluppata economicamente prima quindi sono due paesi che hanno un terzo del reito pro capite dei paesi occidentali in più sono dentro quella che si chiama trappola dei paesi a meglio reddito cioè fino a un certo punto tu riesci a svilupparti se sei un paese sottosviluppato nel senso che importi i beni capitali dall'estero la mano d'opera fa dei lavori che non richiede una particolare qualificazione non c'è bisogno di giudici indipendenti stampa indipendente democrazia e finì ci arrivi per fare il passo successivo dei paesi diciamo a medio reddito per uscire cioè dalla trappola devi fare tutt'altre cose e questa è la prima parte quindi economicamente la Russia e la Cina non sono questo babau come viene raccontato anzi sono piuttosto fragiluzze se andiamo a vedere specificamente cosa succede in Cina figuriamoci in Russia dove a parte le materie prime più o meno lavorate non fanno nulla allora la domanda diventa non sono un terribile diciamo così come posso dire nemico economico allora andiamo a vedere dove sono gli scambi perché uno dice saranno anche economicamente malmessi non sono così importanti l'80% degli scambi commerciali fra paesi ricchi avviene fra paesi ricchi la metà degli scambi commerciali dei paesi poveri avviene coi paesi ricchi la metà coi paesi tipo la Cina quindi tutta sta potenza economica non c'è non c'è proprio dopodiché secondo me c'è un fatto psicologico che mentre tu non vedi i difetti russi e cinesi e dici oddio questi la potenza qui vedi solo i difetti tuoi siamo malmessi non abbiamo politica estera c'è l'inflazione c'è il debito pubblico allora andiamo a vedere minimamente quello che questi hanno per cui viene fuori che c'è una specie di asimmetria per cui di loro si vede solo la forza e di te vedi solo la debolezza mentre invece si fai un'analisi e vedi che loro sono molto più deboli di quanto non sembra se è vero quello che vi racconto tutta sta paura e poi quale anche i BRICS i BRICS i BRICS sono circa la metà del PIL mondiale va bene una volta erano un quarto 30-40 anni fa ma questa questa crescita è la crescita della Cina questo è un paese completamente diverso il Sud Africa il Brasile l'India la Cina sono tutte cose completamente diverse non sono aree omogenee come bene o male è l'area europea o bene o male è l'Europa con gli Stati Uniti e viceversa quindi io partirei se parliamo di economia a vedere anche i difetti degli altri e non solo i propri che è anche una forma di narcisismo vedere solo i propri difetti e vedere gli altri che sono brutti e cattivi tornando al Medio Oriente il discorso posto diciamo così però non si vedono gli effetti dell'economia su questa storia qua perché Putin invade l'Ucraina perché ha paura della radiazione democratica dell'Ucraina perché l'Ucraina e perché la Russia senza l'Ucraina non è un impero ma una nazione limitata è schiacciata alla Moscova va bene quindi non c'entra niente l'economia in l'Ucraina non vedo che cosa ci sia di economico in Hezbollah o in Hamas non c'è niente di economico è tutta una storia legata diciamo così al loro malessere alla loro struttura culturale e sociale quindi l'economia non c'entra cosa c'entra l'economia con il Medio Oriente le materie prime ma siccome fino a quando i sauditi non pensano di usare il loro potere ricattatorio tagliando la produzione di petrolio per aiutare Israele cosa che non sembra affatto al momento non si capisce che cosa te ne devi fare di tutta sta paura economica quindi rimane la paura politica questo sì ma la paura politica in che cosa consiste poi veramente consiste nel fatto che andranno in giro ad accoltellare in Europa che ci scoprirà una vera guerra negli Oriente l'altro è già successo sì però non è l'operazione barbarossa sono due che accoltellano 4 40 ma sono una cosa ben diversa allora può succedere il terrorismo in Europa e forse ma chi una guerra in Medio Oriente ma chi è che poi è in grado di fare la guerra Israele seriamente l'Egitto non ci pensa nemmeno gli altri non sono capaci la Siria non c'è non è uno stato e così via andando quindi anche qui attenzione secondo me che le cose sono come dire molto più come potrei dire prosaiche di quanto non appaiano ho finito grazie posso scusatemi posso soltanto fare un piccolo commento effettivamente infatti guardando i mercati per esempio il prezzo del petrolio cioè il prezzo del petrolio è salito ma non prezza una guerra cioè uno scenario apocalittico di estensione quindi ricollegandomi a quello che ha detto l'interlocutore Giorgio Faras adesso quindi è vero nel senso in questo momento non c'è almeno se guardo appunto con la lente del mercato questo timore di un'estensione ampia del conflitto perché insomma il prezzo del petrolio non lo riflette certo Fabio Pammoglia arriviamo a te Sì sulle considerazioni di determinazione degli impatti reali rispetto a quelli percepiti sono d'accordo però allo stesso tempo credo che sia forse un momento nel quale si addensano un po' di elementi che dovrebbero comunque farci riflettere perché diciamo in una prospettiva di lungo periodo noi vediamo forse una terza fase che è stata a mio avviso innescata dall'aggressione russa in Ucraina in forma diversa molto diversa ovviamente però era stata anche introdotta dalla Brexit che è di ulteriore rimpicciolimento geopolitico dell'Europa soprattutto dell'Europa continentale sicuramente è venuto meno il disegno utopico utopistico di avere un nuovo momento diciamo di inclusione ad est questo è venuto definitivamente meno e lo sarà per molti decenni con quello che è accaduto a Musca cioè la breve stagione del 2010 2012 nella quale abbiamo sperato che ci fosse un'apertura occidente di Mosca a questo punto l'abbiamo persa sul Mediterraneo io non vedo una presenza europea ma non vedo neanche una presenza diciamo degli stati membri la presenza europea ovviamente è anche delle faglie che passano da interessi differenziati da storia diversa però non c'è stata un'azione diplomatica o di costruzione di un tessuto diciamo abbiamo parlato nei libri del Mediterraneo come area economica allargata rispetto alla quale far valere un ruolo dell'Unione europea e naturalmente questo ci fa capire che non è solamente l'assenza di una linea di difesa europea ma è anche l'assenza di un qualunque disegno presentabile di diplomazia nel Mediterraneo non voglio citare non voglio citare le figure alle quali viene demandato a livello europeo e questo diventa una situazione quasi caricaturale in un momento storico come questa ma diciamo fa riflettere insomma questi ambasciatori che vengono che vengono in questo momento mandati in quelle zone che erano già stati mandati in quelle zone con una percezione della realtà storica che si commenta da solo ora questa riflessione a mio avviso va fatta perché questi eventi sono di portata per quanto apparentemente molto più limitata ma l'evento ucraino-russo rispetto all'Europa ha una portata non profondamente diversa dai conflitti mondiali perché l'Europa ne esce devastata dal punto di vista della propria rilevanza geopolitica sicuramente ne esce un piccolo continente sono d'accordo con le riflessioni sul pil pro capite ma contano anche il pil totale e purtroppo conta anche una pressione geopolitica che è stata costruita invece con azioni diplomatiche abbastanza strutturate ultimissima considerazione premesso che ritengo che per un paese come l'Italia agli ultimi decenni siano stati insomma un'occasione perduta per avere un ruolo in quella in quella zona ritengo che in questo momento sia anche necessario che l'Italia sia un attore di una presa di posizione molto precisa anche prendendosi le responsabilità e i costi di questa presa di posizione perché Israele è stata oggetto di un attacco terroristico poi possiamo discutere per intere serate sui territori occupati e su tutta la però voglio dire questo è un attacco terroristico Hamas è un'organizzazione terroristica che va estirpata il problema è che sarebbe anche estremamente riduttivo vedere questa come un'azione di quattro scappati di casa che vanno in deltaplano questa è un'azione che è stata concordata con i servizi di alcuni dei paesi di cui abbiamo chiaramente così è chiaramente così tra l'altro segnalo che nelle ore successive Fabio scusa se ti interrompo abbiamo il metro a Ponset di Hamas che andava in giacca e cravatta la tv Russia Today senza che nessuno muovesse un dito ecco tanto per me ma il risultato che è stato ottenuto con questa mossa è una mossa per certi versi geniale dobbiamo dire perché in questo momento si è ottenuto magic bullet nel senso che hai reso l'Ucraina molto meno saliente in un'opinione pubblica che era già affaticata e soprattutto in una politica che è già stufa dell'Ucraina questo va detto politica europea è stufa dell'Ucraina lo vogliamo dire? ce ne lo diciamo stiamo commettendo un errore di valutazione è un supporto stanco di quasi non dico di facciata ma è diventato un supporto dovuto ma non so per quanto quali saranno le decisioni in termini di budget dell'Unione Europea a sostegno del sostegno militare in Ucraina e quindi questa situazione adesso si aggrava si aggrava con un conflitto che introduce lacerazioni profonde nella opinione pubblica e che allo stesso tempo rende l'Ucraina molto più lontana di prima Fabio grazie volevo ridare la parola un attimo a Oscar Giannino per raccogliere dopo questo giro di appunto opinioni e letture della situazione che è appunto a quanto mai complessa se aveva un'ultima osservazione e suggestione prima di salutarci tre costruzioni riparto dalla Cina decennale vedremo cosa fa l'Italia l'Italia ha però detto in tutti i modi già a Pechino che usciamo dalla Belt and Road perché non abbiamo visto risultati ma insomma i rapporti che il governo intende mantenere con la Cina la partnership strategica tecnicamente rispetto al memorandum d'intesa sulle arance lì che cos'è mi pare molto peggio esatto però detto tutto questo se andiamo a vedere in questo decennale se uno va sul portale della Belt and Road che ovviamente è eretto dal governo di Pechino constata che in questi dieci anni su 193 paesi che sono le Nazioni Unite hanno sottoscritto memorandum con la Belt and Road 154 paesi cioè non esattamente una piccola cosa naturalmente e siccome per professione tento di guardare i dati questo non significa che la Cina ha attivato dovunque i suoi maxiprogetti di investimento anzi se uno va a vedere l'American Enterprise ha un indice che aggiorna due volte l'anno sul China Global Development Nota che da una parte in teoria sulla carta sono stati sottoscritti o annunciati in quei 154 paesi di cui la seconda maggioranza sono i paesi a più basso reddito o medio basso reddito del mondo pro capita interventi di investimento cinese in forma di prestito condizioni capestro quello che volete voi ma insomma pari a 564 miliardi di dollari in dieci anni e questo può far sembrare una cosa gigantesca dall'altra se vediamo come si è evoluta in questo decennio l'investimento medio annuo in progetti di questo tipo da parte della Cina siamo passati da alcunque anno precedente a questi dieci anni da più o meno 30 miliardi di dollari come media annuo poi all'inizio della Beltrad a 50 poi a 80 miliardi l'anno per capirci la media degli Stati Uniti sono 30 miliardi e la cosa particolare però è che in questi dieci anni non è che la Cina si è in realtà se uno va a vedere i programmi davvero realizzati o accesi attraverso investimenti la parte comunque più costevole resta in quella in paesi avanzati che non sono sottoscrittori dell'accordo cioè gli Stati Uniti il Brasile la Francia e così via allora questo per stare poi al realismo a cui ci ha invitato Arfalas detto questo 154 paesi sono una vittoria strepitosa che conta nei voti delle Nazioni Unite questo è quello che penso io quando la Cina si muove la seconda considerazione è quella che riguarda l'allineamento che si determina e che non si misura in quantità di divisioni o tecnologia militare eccetera eccetera si misura in capacità di influenza interventi in maniera simmetrica e questo che i mercati un po' scontano tutte le previsioni internazionali in questa settimana iniziano a scontare che cosa vuol dire vuol dire che l'allineamento di Cina Russia Teheran con movimenti dichiaratamente terroristici alcuni dei quali sufficientemente ben armati da Teheran negli anni come Esmola e da anni tiene sotto scacco Israele con raggi sempre più potenti ma dall'altra il balzo in avanti di cui parlava secondo me giustamente Pamolli nell'armamento e nell'addestramento e nella capacità un po' più sofisticata di elaborare operazioni che si è visto in campo da parte di Esmola cosa fa pensare ai mercati fa pensare ai mercati che sia possibile se non doveroso quasi mettere in campo iniziative che vanno al di là della classica strategia Isis di questi anni cioè gli accoltellamenti di cellule dormiente o pazzi estremizzati magari concentrato su qualche infrastruttura energetica eccetera 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 come quelle che i russi hanno già praticato ecco sui naturalmente qui non si parla di interventi su gasdotti sottomarini ma l'abbiamo già visto a fianco della guerra degli uti come gli iraniani abbiano consentito a forze malarmate e raccoglitici di colpire infrastrutture abbastanza rilevanti petrolifere dell'Arabia Saudita e l'Arabia Saudita anche per questo frena adesso perché quella possibilità sarebbe più che concreta a dire la verità e questo spiega anche un po' la posizione americana che non gradisce che già era un po' salito il prezzo del brand del WTI giustamente come avete come è stato detto è salito ma insomma non di poco il 4-5-6% in questi giorni ma il problema è l'attacco a qualche infrastruttura questo è il rischio che i mercati stimano e obiettivamente oggi l'allineamento di forze e di potenze autoritarie nei confronti del mondo avanzato questo è il grande errore dell'Occidente e dell'Europa condivido anche questo pammolle che stiamo commettendo non solo sull'Ucraina è molto temibile cioè ha una forza in campo che non si vedeva ai tempi della guerra fredda e che non si è mai vista dal secondo come tenibilità terza considerazione ho finito ovviamente questo vale per l'economia dei mercati finanziari in generale poi c'è poi l'Italia perché è ovvio che già stiamo vivendo un'epoca molto dura per tutto l'obbligazionario nel mondo per quello che capita per via delle politiche monetarie ma quando il coefficiente di rischio da stimare sale si inizia a pesarlo e a fare l'outflow di risorse investite soprattutto dai paesi che in proprio hanno una struttura e dei fondamentali esposti al più alto rischio e questo è il motivo per cui il nostro spread sale perché certo oggi è difficile credere che in questo quadro arriveranno bocciature a junk del debito pubblico stiamo tutti aspettando ovviamente la pronuncia che nelle prossime settimane arriva da parte delle maggiori agenzie di rating ma di fatto sui mercati questa maggiore valutazione del rischio di chi è più esposto al rischio per colpa sua e non di quello che avviene tra Israele e Hamas e tra Russia e Ucraina e questo è ovviamente da mettere in conto quindi questo significa maggiore l'ora del debito meno spazio fiscale e quando leggeremo questa legge di bilancio capiremo che tutto quello che è stato fatto sono nuovi bonus annuali che agli occhi del mercato e degli osservatori internazionali e dei nostri partner europei che cosa sono se sono interventi non strutturali che aumentano in maniera rilevante il potenziale finanziati solo per un anno significano l'elevata probabilità che per confermarli stiamo accendendo nuovo deficit e debito anche negli anni successivi punto e allora noi dobbiamo andare a chiudere se non ci sono altri interventi o qualcuno di voi che vuole aggiungere vorrei solo commentare una cosa rispetto a quello che diceva Oscar aggiungo un punto la sproporzione a mio avviso quasi insomma la sproporzione tra quello che stiamo discutendo la portata di questi eventi e le modalità con le quali sta avvenendo la discussione sulla cosiddetta nuova governance economica europea in realtà è una discussione sui punti decimali dei sentieri di aggiustamento fiscale e che non tocca nessuno degli snodi chiave di come disegniamo le politiche monetarie e le politiche fiscali l'unità economica europea cioè è una cosa che io trovo veramente un punto sul quale è necessario fare una riflessione perché è una sproporzione che segnala anche una inadeguatezza diciamo di una classe dirigente a livello europeo io credo che e chiudo ci sia stato un momento in cui per la crisi del covid tra i vari noi avevamo i dpcm se vi ricordate con con la pochette e invece a livello europeo si è determinato uno squilibrio di rapporti tra consiglio parlamento e commissione in favore della commissione che si sta trasformando in un apparato burocratico che a mio avviso dobbiamo in qualche modo aiutare a orientarsi perché il rischio grosso è di avere una commissione che perde il contatto con il proprio ruolo all'interno del quindi questo volevo dirlo però qui mi taccio perché ho aperto un'altra puntata un'altra matassa da cui tirare un bandolo grazie davvero a voi tutti grazie a Fabio Pammoli grazie a Oscar Giannino grazie a Lisa Iucca di Reuters per essere stata con noi grazie a Giorgio Alfaras noi torneremo la prossima settimana a stessa posto stessa ora qui su Radio Radicale grazie per essere stati qui e con noi alla prossima grazie a tutti